Buonasera a tutti e benvenuti, Stati Uniti, Trump, Biden, elezioni, ne parliamo ancora perché abbiamo un Presidente eletto e un Presidente in carica che dice ho vinto, broglie elettorali, Rudolf Giuliani, vecchia volpe per la verità su certi aspetti procedurali e anche di grande capacità scenica nel far immaginare un po' prospetti apocalittici sulla contestazione del voto, sul ricorso alla Corte Suprema e su tutta una serie di inghippi, inganni, truffe, brogli che coinvolgono anche emittenti televisive, quanto l'intero sistema anche di votazione elettorale americano, il voto per posta e una serie di paure che vengono paventate per disordini e via, ci sono stati anche in effetti alcuni disordini che nessuno però tende a spegnere, ce ne sono anche fin troppi. Sta di fatto che c'è una votazione, in qualche modo è stata certificata, 306, 232, 270 il numero per il collegio dei grandi elettori che dovrà riunirsi il lunedì seguente al secondo mercoledì di dicembre per confermare questo voto. Voto che viene dato per scontato, voto che ribadisco questi grandi elettori che all'inizio palesemente danno la loro disponibilità per un candidato o per l'altro potrebbero comunque cambiare idea, si tratta di un voto segreto, ma generalmente non succede o non di proporzioni tali da stravolgere l'esito elettorale, 6 gennaio il conteggio, 20 gennaio l'insediamento del nuovo Presidente. Ora, al di là, ribadisco di quelle che saranno le determinazioni della Corte Suprema, importante secondo me la nomina di capo di gabinetto, capo dello staff di un personaggio come Ron Klein, 59 anni, Indianapolis, avvocato ad Harvard, uomo di grande esperienza. Soprannominato anche un po' lo zar dell'ebola perché aveva collaborato con Obama nel 2014 e così nello sconfiggere l'ebola a paesi africani con un po' di critiche, con un po' di polemiche, al tempo insomma veniva messa in dubbio la sua competenza per materia medica e in particolare per quanto riguarda lo stesso virus dell'ebola. Sta di fatto che questo signore non è uno sproveduto, è davvero un uomo di grande stabilità, di grande esperienza, di grande capacità, a prescindere dal nostro affetto per i democratici o per i repubblicani. È sicuramente però un uomo d'ordine perché ha una carriera che inizia già anche dagli anni Ottanta, collaborava già con il presidente eletto Biden, era stato suo capo di gabinetto, aveva collaborato ed era stato capo di gabinetto del vicepresidente Al Gore nella campagna elettorale, poi si è spostato con Hillary Clinton e poi è tornato ancora ad aiutare e quindi a collaborare per il futuro con il presidente eletto Biden. È un uomo, ribadisco, anche di una certa forza capace di districarsi fra gli intrighi, tra virgolette, buttiamo una parola un po' da sopopera comunque di Washington, del Campidoglio, dei vari delegati, dei deputati, dei senatori, delle correnti, delle lobby. È persona che potrebbe davvero mettere d'accordo i diversi schieramenti politici, repubblicani, democratici, gli indipendenti e riunire quel Paese che ha assoluta necessità di essere riunito. In queste sue prime dichiarazioni, ecco, Ron Klein, ribadisco, non è uomo così di mezze parole perché ha iniziato e ha parlato chiaramente di un fallimento dell'amministrazione Trump per la lotta al Covid, un Trump che sta anaspando anche con la Pfizer per la pubblicazione, per la concretizzazione del vaccino, per dire ecco, grazie a me abbiamo fatto, abbiamo fatto noi, abbiamo risolto noi il problema, si scambiano botte da orbi anche sulla piattaforma Twitter, ma ecco, l'uomo è sicuramente un conforto e una sicurezza per il Presidente Biden, già protagonista al tempo, sempre con lo stesso Presidente, parliamo già anche nel 2009 per questo salvataggio dell'economia americana con tutto quello che al tempo ne era derivato. Quindi sicuramente mossa azzeccata per la creazione di uno staff in grado di governare. Governare, dico io, quando in questo momento non possiamo dirlo, aspettiamo il 20 gennaio. Grazie. Grazie.